Scontro diretto alla disperata ricerca e la tranquillità da ambo le parti in una giornata da tregenda che mal si sposa con le esigenze dei 22 in campo. Freddo, pungente e neve nell'aria che spingono i giocatori verso velocità che danno un certo ritmo alla contesa sin dai primi minuti, ma per la prima occasione bisogna attendere il dodicesimo, quando Daniele Di Girolamo parte in progressione ma trova Didonato sul proprio tragitto che si distende, devia e salva la propria porta. Ancora Granata protagonisti al quarto d'ora con Edo De Meis che carica dai 20 metri e mette in difficoltà l'estremo ospite che si impapera senza fare danni ingenti però. Capistrello sul pezzo, ma il Sambuceto tiene bene il campo e prova a proporsi di rapina al ventitresimo quando l'ex di turno Miccichè pennella direttamente da tiro d'angolo e trova una inusuale faccia superiore della trasversale. Un brivido velocissimo ma intenso sulle schiene infreddolite dei presenti e si riparte con Daniele Di Girolamo che al 32esimo corregge il tiro e questa volta è letale nel trovare specchio e rete del vantaggio marsicano. Granata avanti di uno negli spogliatoi e vigili in apertura di secondo tempo con il solito Di Girolamo a cercare il pertugio giusto e il giovane Didonato tempestivo nell'uscita salvaporta. Locali che sembrano in completo controllo ma il dodicesimo in cui procuò di marca Palentina regala il pari ai teatini con l'involontario benefattore Fantauzzi che uccella l'intera retroguardia di casa. Granata che accusano e sbandano i minuti seguenti ma provano a riprendersi già al sedicesimo quando in Briola non nuovo a protezionare in Zucca di poco a lato. Segueva se distanca e ci accompagna direttamente al trentadresimo quando Fantauzzi carica da distanze siderali e trova il centimero giusto fuori dalla portata di qualsiasi essere umano regalandosi una gran soddisfazione e soprattutto la rete del nuovo vantaggio capistrellano. I ragazzi di Mister Giordani tornano di nuovo in controllo e provano a blindare i tre punti al quarantunesimo con il solito di Girolamo che rientra verso il cuore dell'area ma la conclusione finale è neutralizzata a terra dall'estremo Adriatico. Chiusura con il pensiero stupendo di De Roccis che al quarantadresimo prova a mara maldeggiare da metà campo ma i centimetri non sono dalla sua per pochissimo. Finisce comunque con la vittoria ai paroni di casa e un dopogara complicato per Mister Ronci che infatti non si presenta ai nostri microfoni. C'è aria di tempesta in casa Sambuceto, forse nelle prossime ore ne sapremo di più. Gianluca Giordani è una vittoria fondamentale. Sì, è una vittoria importante, i ragazzi, tutto l'ambiente ne aveva bisogno perché venivamo da una serie di sconfitte in meritate, dire in meritate è anche poco perché abbiamo perso tre partite dove abbiamo sempre dominato l'avversario però purtroppo non abbiamo portato punti e questo aveva un po' diciamo minato le nostre energie diciamo però oggi hanno fiatto una grossa partita contro una buonissima squadra sono contento soprattutto per i ragazzi e per tutto l'ambiente. C'è stato un momento di difficoltà dopo il gol del pari del tutto fortuito avete sbandato? È normale perché abbiamo preso golle, l'avete visto, cioè in modo proprio veramente rocambolesco senza subire diciamo la pressione dell'avversario quindi un po' ha dato un po' di fastidio ai ragazzi però poi dopo abbiamo fatto due cambi e quelli che sono entrati hanno secondo me dato la scossa giusta e abbiamo ripreso a macinare il gioco e diciamo che è arrivata questa vittoria meritatissima. 35 punti, a quanto siamo alla quota salvezza? Siamo a 10 punti dalla quota salvezza. Addirittura? Addirittura, purtroppo ci sono delle regole assurde quest'anno per salvarsi in eccellenza è uno sterminio in sostanza perché per far salire un'altra squadra dalla promozione c'è questa possibilità purtroppo se eventualmente Castelnuovo dovesse retrocedere quindi per stare tranquilli bisogna fare almeno 10 punti quindi a 45 c'è la salvezza. Allora ancora è lunga? Lunghissima. Ottimista eh? No, sempre ottimismo, sempre ottimista però è lunga.